La cerimonia di partenza della Targa Florio Classica a Palermo e la disputa dello Shakedown dei protagonisti del campionato italiano Rally hanno acceso i motori della centunesima edizione della Targa Florio. I siciliani hanno gremito Piazza Verdi, lo start della Classica e del Ferrari Tribute è stato anticipato alle 15.30 e tra i numerosi personaggi ha ospitato anche Beppe Fiorello, al via su un Alfa Romeo Giulia Sprint GTA, insieme a Fabrizio Curci, responsabile del brand Alfa per la zona EMEA. All'eventi si è replicato con l'imponente sfondo del Teatro Massimo, cerimonia di partenza della Targa Florio Rally internazionale di Sicilia, terza prova del tricolore e in contemporanea della Targa Florio Historic Rally, terza prova dell'italiano storiche. 75 vetture verificate per queste due competizioni e i loro protagonisti che già in tanti hanno voluto seguire tra autografie e fotografie nel Parco Assistenza, allestito a Campo Felice di Roccella, presso d'assalto fin dal mattino e durante lo shakedown, il test è in configurazione da gara disputato su un tratto di strada di 2,2 km, appositamente allestito nei pressi del Comune Tirrenico. Umberto Scandola e Guidano d'Amore balzano in testa la centunesima Targa Florio, grazie allo scratch della prova speciale 1 Città di Collesano 1. Con il tempo di 1 ora 51 minuti e 9 secondi l'equipaggio della Scoda Fabia R5 ufficiale ha vinto la prova d'apertura di giovedì notte, disputata su un tracciato di 1,8 km, ricavato nel centro della cittadina Madonita, che ha ospitato migliaia di appassionati e entusiasti e che nella corsa automobilistica più antica del mondo ha aperto le sfide del campionato italiano rally e del tricolore rally storiche. Secondi appena a tre decimi sono Simone Campedelli e Pietro Elia Ometto sulla Ford Fiesta di Orange 1 e terzi Paolo Andreucci e Anne Andreussi sulla 208 T16 di Peugeot Italia.